Musica Benvenuti ad una nuova puntata di In Salute, rubrica dedicata alla medicina, benessere e alla prevenzione. In questo nostro appuntamento parleremo di dipendenza affettiva e lo facciamo con la dottoressa Rossella Ottaviani, come psicologa che ha accettato il nostro invito per trattare un argomento così delicato. Grazie, grazie dottoressa per essere qui con noi. Partiamo subito, visto che abbiamo 12 minuti, dobbiamo sfruttare meglio. Dipendenza affettiva, che cos'è? Quando possiamo dire di soffrire? È giusto come verbo? Sì. Dipendenza affettiva? Ok, allora diciamo che la dipendenza affettiva si costruisce nel tempo quando effettivamente si verifica quello che è un legame eccessivo e patologico con un'altra persona. Quest'altra persona può in questo caso essere un partner, può essere un genitore anche spesso, può essere un figlio, può essere un amico. Quindi non per forza si tratta solo di una relazione sentimentale in termini amorosi. La dipendenza affettiva si instaura spesso perché permette appunto alla persona dipendente di poter proprio creare un legame con l'altra persona capace di dargli e di fargli vivere quell'equilibrio emotivo e psicologico che altrimenti in autonomia non riuscirebbe a vivere. Quindi si va a creare in questo senso un legame veramente molto forte, per quello si dice patologico in questo senso con l'altra persona, proprio perché in questo senso la dimensione individuale della persona dipendente viene meno. E soprattutto spesso all'interno di questo legame si tratta proprio di un legame che viaggia un po' tra due poli, quindi il non riuscire a vivere con quella persona ma allo stesso tempo anche il non riuscire a vivere senza quel tipo di persona. Quindi che cosa succede? Che l'individualità della persona dipendente si struttura e si fonda sulla presenza dell'altro soggetto. Quindi si perde proprio quella che è la presenza di personalità di quella che poi è il soggetto dipendente da questo punto di vista qua. E poi ha usato la parola equilibrio, però qui stiamo parlando di dipendenza. Ecco che emerge il problema. Ecco che emerge il problema, esattamente. Ricordiamoci sempre che a me piace un po' vedere il concetto anche di salute, dato che la rubrica parla di questo, sempre come un equilibrio. Ricordiamoci sempre che ogni atteggiamento, ogni comportamento può diventare patologico, anche quello considerato più sano nel momento stesso in cui viene portato in estremo. Quindi in questo senso si parla appunto di un atteggiamento patologico proprio quando la dimensione individuale, in questo caso del soggetto dipendente, dipende per l'appunto dalla presenza dell'altra persona. Infatti noi abbiamo fatto proprio un titolo, scusate se ne interrompo, dipendenza affettiva quando diventa patologica. Esattamente. Quando dobbiamo ascoltare determinati campanelli d'allarme. Assolutamente. Diciamo che per il soggetto dipendente è molto difficile da riconoscere questo tipo di processo perché ovviamente non arriva in modo immediato ma ci si arriva gradualmente. Solitamente la persona in questione è una persona che ha molta difficoltà a vedersi come soggetto individuale, è una persona che ha una considerazione di se stesso fondata e basata unicamente su quella che può essere la considerazione che il partner o in questo caso l'oggetto, la persona verso cui ha la dipendenza considera di lui. Quindi la sua considerazione, la sua identità dipende sempre da una valutazione esterna. Allo stesso modo possiamo anche definire un po' quella che è la dipendenza affettiva come anche molto simile a molte altre forme di dipendenza come ad esempio proprio la tossicodipendenza da questo punto di vista qua. Quindi a livello proprio anche biologico si attivano tutta una serie di aree cerebrali che sono quelle adibite proprio ai circuiti della ricompensa che portano quindi in questo senso la persona a provare piacere nel momento in cui crea quel tipo di legame. Esattamente come un tossicodipendente può provare piacere nel momento stesso in cui assume e consuma quella che è la sostanza oggetto di abuso da questo punto di vista qua. Quindi in realtà la dipendenza affettiva ha molti meccanismi simili ad altre dipendenze comportamentali. Da questo punto di vista qua abbiamo appunto il piacere legato alla presenza della persona verso cui io ho la dipendenza. Abbiamo poi spesso anche l'astinenza quindi che cosa la persona sente e prova nel momento stesso in cui l'altra persona non è presente e quindi in questo caso spesso l'altra persona, quindi il soggetto dipendente tende a provare ansia, depressione, a volte anche attacchi di panico. Quindi va in completo in una condizione estremamente disfunzionale, non è più in grado quasi di stare in quella condizione senza l'altra persona. E ovviamente questo è un po' anche quello che si verifica negli altri comportamenti dipendenti. Nel momento stesso in cui io non ho il mio oggetto di dipendenza ho bisogno di ricercare quello stimolo come può essere per il tossicodipendente la sostanza che mi genera quindi in questo senso di nuovo quella sensazione di piacere. Quindi proprio un circolo più improntato ovviamente a livello relazionale ma che porta la persona a effettivamente star veramente male quando quella relazione viene meno. Quindi che cosa fare? Che cosa fare? In questo caso sicuramente da parte del soggetto dipendente è fondamentale e estremamente fondamentale intraprendere quello che è un percorso psicologico che permette in questo senso alla persona proprio di identificare determinate modalità perché un soggetto dipendente non è in grado di riconoscere quelli che sono i propri bisogni, le proprie emozioni, i propri desideri perché è tutto orientato all'altra persona. Quindi magari l'altra persona che non ce la fa più e che cosa succede? O interrompe una relazione o interrompe un'amicizia. Certo, spesso può interrompere a volte la relazione, altre volte la dinamica di invischiamento è talmente elevata che anche l'altra persona poi crea e va a nutrire lo stesso legame per cui nessuno dei due riesce a distaccarsi. Spesso ci sono infatti all'interno di queste dinamiche persone che vivono relazioni molto disfunzionali, molto poco sane da questo punto di vista qua, ma il solo pensiero di abbandonare la relazione e quindi di sentirsi abbandonati e di rompere è molto più forte e molto più drastico del vivere una continua relazione in questo caso tossica e spesso disfunzionale. Ecco, quindi torniamo alla domanda, cosa fare? Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione? In questo caso, ripeto, attraverso un percorso psicologico è fondamentale perché il percorso permette... Quindi anzi a tutti bisogna arrivare a essere consapevoli del fatto di avere una dipendenza. Assolutamente, questa spesso è la cosa più difficile perché o hai dall'altra parte un partner che ti permette di comprendere questa dinamica e quindi spesso interrompe la relazione e quindi l'altra persona si rende conto che ha delle difficoltà che da solo non riesce ad affrontare quindi in questo senso chiede aiuto oppure spesso si arriva proprio all'eccesso, ok? Quindi ovviamente più informazioni si danno in riferimento come appunto fate anche voi con la rubrica, più si riescono a prevenire determinate dinamiche perché all'interno di un percorso si aiuta la persona dipendente in questo caso a riconoscere quelli che sono i suoi bisogni, quelli che sono le sue necessità e riuscire poi in un secondo step anche a comunicarle perché nel rapporto dipendente questo passaggio proprio non c'è. Poi diventare un'ossessione. Assolutamente sì, può diventare anche quella che è un'ossessione. Infatti uno dei comportamenti anche della persona dipendente è proprio quello di controllare il partner o la persona verso cui sviluppa questo tipo di atteggiamento proprio perché è l'unico individuo che è in grado di dargli una sua dimensione d'essere. Cioè io non esisto se quella persona non c'è al mio fianco. Quindi è molto impattante, è molto forte a livello emotivo da cercare di gestire in autonomia. Quindi solitamente quello che ho potuto vedere anch'io è che spesso sono persone esterne alla dinamica che cercano di convincere magari la persona ad affrontare quello che è un percorso psicologico oppure la persona stessa in questo senso si rende conto della tossicità, della relazione che si sta andando a creare e quindi di conseguenza decide di intraprendere un percorso all'interno della quale quindi si lavora tanto sulla componente emotiva nel riconoscere i propri bisogni come singolo individuo prima di essere effettivamente una coppia. Si lavora spesso anche sull'andare a interrompere quelli che sono dei pattern comportamentali disfunzionali perché magari anche a voi sarà capitato più volte di conoscere quelle persone che interrompono una relazione e poi subito dopo si mettono in un'altra come relazione sentimentale. Sbagliato? Diciamo che sicuramente non è molto funzionale poi ovviamente questo non è che va a denotare per forza una dipendenza affettiva ma è tipico di un comportamento tipico. Quindi bisogna elaborare la fine del termine della relazione Esatto, bravissima. Con calma si intraprende un nuovo rapporto amoroso. Assolutamente, perché comunque quando vi è una relazione sentimentale si porta al termine quel tipo di relazione che sia appunto sentimentale o anche amicale insomma comunque un rapporto intenso la mente in quel momento è stimolata da tantissime cose quindi immaginatevi come una scatola che noi riempiamo di miliardi di informazioni e la nostra mente che è quella scatola deve elaborare quelle informazioni per poter fare una valutazione e di conseguenza monitorare e guidare quello che è un nuovo comportamento. Se io passo da una situazione... Ecco, infatti noi abbiamo anche posto una domanda dipendenza affettiva e gli errori da non commettere ce li sta elencando tutti. Questo può essere appunto uno di questi quindi darsi il tempo di capire darsi il tempo di capire quali sono i pensieri che io ho dopo la rottura di una relazione darsi il tempo di capire quali sono le emozioni che io provo perché i nostri desideri, i nostri bisogni, le nostre necessità cambiano ma cambiano sulla base di che cosa? Sulla base delle esperienze che noi viviamo se noi non diamo alla nostra mente il tempo di elaborare tutti gli stimoli che gli diamo di fatto non potremmo neanche sviluppare nuove capacità, nuove abilità quindi se io passo ad esempio per quanto riguarda magari una dipendenza affettiva amorosa da un partner all'altro semplicemente mi trascino dietro il problema da un partner all'altro quindi non vado ad elaborarlo ma vuol dire che io ripeterò lo stesso pattern disfunzionale con un nuovo compagno e così ci facciamo del male assolutamente sì, lo facciamo a noi e lo facciamo anche di conseguenza incociamente per carità certo, e lo facciamo anche però di conseguenza all'altro partner per poi arrivare magari a chiudere in un anno ipotizziamo sei relazioni che comunque non sono poche, sono abbastanza e arrivare anche al termine magari dell'anno che obiettivamente non riusciamo a comprendere il perché magari la persona ci lascia o perché sviluppiamo relazioni estremamente disfunzionali è come uno schema che si ripete costantemente quindi se noi abituiamo la nostra mente in un determinato modo e di conseguenza questo condizionerà anche il nostro comportamento quindi riuscire a prendersi del tempo per elaborare quelle che sono le informazioni che arrivano alla nostra mente informazioni emotive, di pensiero e ambientali è estremamente importante perché questo ci permette di sviluppare nuove risorse nuove abilità e nuove competenze con cui poterci muovere nell'ambiente a 360 gradi in maniera proprio più efficace ed efficiente da questo punto di vista qua Ecco, dottoressa Ottaviani l'ho ascoltata davvero con grande interesse anche perché se ascoltiamo tutti questi campanelli d'allarme e mettiamo insieme tutte le cose anche che ci ha raccontato magari questa condizione patologica questa ossessione può anche evitare di farci raccontare delle tragedie visto che siamo giornalisti e lo facciamo quindi cerchiamo anche di prevenire se vediamo degli atteggiamenti sbagliati in noi stessi innanzitutto in qualche nostra amica, amico a cui vogliamo bene parente, familiare cerchiamo di parlare, di comunicare quindi con quale messaggio chiudiamo questo nostro importante appuntamento perché abbiamo davvero affrontato un argomento delicatissimo come quello della dipendenza affettiva Allora sicuramente importantissimo è imparare ad ascoltarsi a livello proprio emotivo imparare a capire quando stiamo superando quelli che possono essere i nostri limiti personali i nostri limiti individuali in termini di bisogni, di emozioni e di necessità quanto effettivamente stiamo rispondendo ai nostri bisogni e quanto effettivamente magari invece stiamo solo rispondendo a necessità esterne che non dipendono da noi quindi imparare a stare nelle emozioni che noi viviamo e non avere paura di conoscerle purtroppo oggi noi culturalmente abbiamo sviluppato un concetto di emozione che possiamo scindere in emozione positiva o emozione negativa non ci sono emozioni positive o negative ci sono le emozioni e basta emozioni che sono biologicamente determinate che hanno un significato e che ci servono e che sono utili ok? sono utili nel momento stesso però in cui impariamo a conoscerle impariamo a canalizzarle e utilizzarle e sfruttarle in maniera funzionale quindi sicuramente imparare ad ascoltarsi e dare una linea può essere molto utile da questo punto di vista qua ecco, abbiamo avuto bisogno di molto altro tempo però ci ha già fornito dei consigli preziosissimi quindi ringraziamo di cuore la dottoressa Rossella Ottaviani psicologa grazie per essere stata con noi per questa nostra puntata di In Salute e grazie a tutti i nostri telespettatori grazie grazie a tutti i nostri telespettatori 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 grazie a tutti i nostri telespettatori